E allora il fumetto era tutto, allora il fumetto era tutto, il fumetto era l'avventura, la libertà, era il sesso, era tutto quello che potevi aspettarti dal fumetto. E dopo aver visto quei quattro numeri di Linus e Alper che ho sfogliato all'inverosimile per tutta l'estate, non c'era più speranza per nient'altro. Vuoi che io faccia la presentazione con la serie? Sì. Allora, benvenuti ai migliori Alvi della vita con Paolo Interdonato. Ciao. Critico e come ti possiamo definire? Tu sei proprio un critico di fumetto, dai, lo storico, hai scritto un saggio importantissimo su Linus, a voi con un successo incredibile, l'avete letto tutti. Comunque, grande esperto del fumetto, grande amante del fumetto, tu sei proprio innamorato. Io sono un lettore. Sei un lettore veramente molto innamorato del fumetto. Quindi credo sia molto interessante sapere quali sono gli albi della tua vita e per quanto pare devo spiegare cosa sono gli albi della tua vita. Lo devi spiegare soprattutto a me. Perché lo fai? Perché faccio questa cosa dell'intervista? Qual è l'obiettivo di questa cosa? Hai un plate dietro la schiena, puoi mettertelo sulle ginocchia se vuoi, come un anziano. Io di solito lo faccio quando sono seduto qui. Come numero uno. Perché faccio questa cosa qua? Avevo voglia di riscoprire un po' perché mi piacciono i fumetti. Avevo voglia anche di rincontrare un po' di gente senza andare alle fiere. Ah. Avevo voglia di questa cosa qua. Avevo voglia di andare a beccare gente che ho sempre beccato solo alle fiere, in momenti in cui non siamo in una fiera. E perché chiedi quali sono le cose più importanti? Perché la formazione secondo te è così importante? Più che la formazione, quasi mi interessa la casualità dell'incontro. Capito? Cioè, non tanto il fatto che poi c'è quell'album che tu sai che è importante, però a volte è affascinante sapere come costruiamo le nostre personalità di adulti per alcuni episodi che poi magari mettiamo in una narrazione, no? Assolutamente. Però c'era sempre una cosa di una casualità. Assolutamente. Quindi mi interessa, non lo so, mi affascina, non ho uno scopo preciso, mi va di... Abbraccia mili. Abbraccia mili. La posizione di storico e critico del fumetto. Certo. Faccio un'altra cosa che mi riesce a pagare il 27, le scarpe, il formaggio, per riuscire a fare questa cosa. E io passo tutto il tempo che quell'altro lavoro mi tiene impegnato a cercare di trasformare le memorie in storia. E quindi i miei ricordi di quello che ho letto, quello che mi è piaciuto, quello che ho amato, in una traiettoria di una storia poi relativamente breve, perché parliamo di una cosa che se la estendi proprio tantissimo diventa ottocentesca. Quindi parliamo di un pezzo di umanità risicata. Allora, io ho bisogno che tu mi spieghi un po' meglio che cazzo stai dicendo e ho bisogno che parli con una voce un pochino più alta. Allora posso parlare con una voce più alta? Ma io ho una voce molto bassa, sua dente sensuale. È sensualissima, però no, spiegami, allora tu sei partito e hai detto Lobby, la cosa, mettiamo dei punti, tu ti sei appassionato della storia del fumetto. Io ho iniziato a leggere fumetti da bambini, come tutti. Ho iniziato a leggere fumetti da bambini e ho iniziato a leggere fumetti con i supereroi. Ho due sorelle più grandi, una di quattro e una di cinque anni più grandi di me, che avevano in casa Diabolik e Topolino, cose che non mi hanno mai appassionato. Topolino non era il mio, Diabolik era quella cosa lì che non mi interessava. E ho capito che il fumetto mi interessava tantissimo leggendo i supereroi. Supereroi che arrivavano casualmente a casa perché dei vicini di casa li leggevano e quindi li avevo scoperti a casa loro e li chiedevo con insistenza. E che poi sono diventati una presenza costante nella mia vita quando una volta andando a prendere gli zii in stazione perché stavano arrivando dalla Sicilia, e in stazione centrale a Milano, in un'edicola milanese ho trovato un numero di Capitano America in cui c'era la prima parte della seconda genesi degli X-Men. Cioè l'episodio degli X-Men in cui arrivano questi X-Men nuovi. Io ero già appassionato degli X-Men perché un altro compagnuccio di giochi infantile, Serafino si chiamava, non me lo ricordavo più, questo non mi ricordavo veramente. Serafino aveva il fratello che lavorava nella distribuzione e il fratello di Serafino si trovava a casa gli albi che gli rimanevano nel camion quando apriva il pacco. I pacchi erano di cielo, loro usano il taglierino col cutter, sacre! E il primo albo c'era sempre la copertina tagliata. Quindi questi anni, puff, venivano buttati in un anno, erano fallati e a un certo punto io mi sono ritrovato in casa i primi numeri di Capitano America, con le primissime storie degli X-Men, gli X-Men pigiamosi col costume giallo e blu, e quelli mi piacevano un sacco perché erano dei ragazzi, erano evidentemente dei ragazzi poco più grandi di me che stavano cambiando. E la loro trasformazione era importante. Arrivare in edicola, in stazione centrale, in quell'anno, non so cosa sarà stato, il 77 avrò avuto 9 anni, o il 76, 8, e trovare un Capitano America con dentro questi X-Men che erano già per me importantissimi perché erano fondanti per la mia vita, erano il mio essere bambino in questo tardo novecento, è stata una cosa pazzesca perché sono arrivati e c'erano, sembravano le barzellette quelle c'è un italiano, un tedesco, un francese, però non c'era l'italiano, c'era l'irlandese, c'era il tedesco, c'era il russo, c'era l'indiano nordamericano, c'era l'africana, c'era il giapponese in quella storia lì, e questi personaggi che vengono raccolti tutti da questo professor Xavier che io conoscevo benissimo, e che chiamavo e chiamo Xavier, anche se adesso sarei portato a chiamarlo Javier, questi ragazzi erano adolescenti che si trasformavano, che cambiavano, è stato il mio primo contatto con il melting pot, cioè io ero un ragazzo di provincia, sei venuto qua in macchina e hai visto quanto provincia sia questo posto, sono cresciuto là dietro, è un ragazzo di super provincia e allora era molto più provincia di adesso questo posto, e vedere che là fuori c'era un mondo di diversità, etniche sicuramente, ma ideologiche, di pensiero, perché il giapponese era diverso dall'indiano, l'indiano era diverso dal russo, nella scrittura di Ilan Wayne e poi di Chris Claremont, è stato importantissimo, poi per me quell'albo è stato anche un po' come quando ti raccontano, io da bambino leggevo Topolino e non ho mai trovato la seconda parte o la prima parte di, perché io la seconda parte di quella storia lì non l'ho mai letta, cioè l'ho letta poi da grande e l'ho trovata noiosa e risibile, però allora quella prima parte è stata una roba di apertura, e con quella cosa lì il mio amore per gli X-Men è diventato totale, avevo meno di dieci anni. Ok, gli X-Men. Sì, gli X-Men mi hanno salvato la vita. Gli X-Men mi hanno salvato la vita, sì. Quindi più dei poteri, la diversità dei personaggi. La diversità, le differenze... Guarda, io non ricordo nessun momento in cui ho sognato di avere i poteri di quella gente, cioè io non ho mai sognato di diventare una creatura di acciaio organico, di sparare raggi dagli occhi, di avere il potere sugli elementi, sulla tempesta, no. Ma forse neanche di volare, di diventare invisibile, neanche di quelle metafore della sessualità che sono i Fantastici Quattro, per cui tutti i maschi sono di fuoco, di roccia, si allungano, e le femmine diventano invisibili. Neanche quella roba lì. Cioè io negli X-Men vedevo proprio la diversità, le differenze, il fatto che vivessero insieme, che avessero delle tensioni di distanza. Molto, molto bello. Cioè ho cercato quella roba lì per un sacco di tempo, e poi dopo un po' ho scoperto che gli X-Men non me la potevano dare. Perché poi dopo un po', scusami, il primo periodo di Claremont, finché sono riuscito a seguirlo con i tempi delle pubblicazioni italiane, che poteva seguire un ragazzo degli anni Ottanta, sono quelli lì. Cioè li ho seguiti come potevo. Poi a un certo punto ho scoperto che diventavano noiosi, che non mi piacevano più. Però è successo un'altra cosa. Mi stai parlando dei migliori albi della mia vita, allora penso a un evento di quelli che, bam, ti scoperchiano il cranio e dici, e allora io voglio leggere i fumetti. E quest'altra cosa è quando mio padre, eravamo a Messina, io sono un immigrato, sono cresciuto qua dietro in un quartiere di immigrati, sono nato a Monza, ma da genitori siciliani, mio padre a Messina, in vacanza dai nonni, una volta è arrivato a casa e l'ha tirato su da una bancarella di quelle dove prendi un po' di riviste a caso e prendevi, adesso non ci sono più, prendevi un po' di riviste a caso e lasciavi giù tutto, lasciavi giù un po' di quattrino, ma poco a piacere. Ah, così proprio? Sì, sì, sì. Perché tu parli veramente bassa e di là stanno gridando, penso che poi alla fine sentiamo più forti le ragazze di là. Io non parlo a voce bassa, lo tengo qua, faccio così, non parlo a voce bassa, va bene? No, sono comodissimo, Minnie è qui, Minnie saluta. Ciao, sono Minnie. La cosa veramente sconvolgente che ha fatto mio padre quella volta è stato, eravamo in Sicilia, eravamo in Sicilia, è arrivato a casa con quattro riviste, eravamo due numeri di Linus e due numeri di Alter Linus, non lo so che anno sarà stato il 77, 78, cioè avevo dieci anni, una cosa così, ed è arrivata con due numeri, forse meno anche, ed è arrivato a casa con quattro riviste che lui non aveva chiaramente neanche sfogliato. Ma come mai le ha prese? Ma perché mi piacevano i fumetti, e i genitori degli anni 60 non così attenti ai contenuti delle cose che potessero piacere ai figli, ma molto volenterosi di soddisfare dei gusti immediati di questi bambini che a casa impazziscono per queste cose. Mi ha portato a casa questi quattro giornali, e questi quattro giornali che erano due numeri di Linus e due numeri di Alter Linus del periodo in cui le due riviste erano dirette entrambe da Oreste del Buono, erano pazzeschi. Eh, ci credo, sì. E io sono impazzito, perché sì, certo, c'erano le strisce, mi ricordo che c'era Peanuts, le solite Peanuts, c'era Dropout, il solito Dropout, c'erano tutte quelle strisce, c'era anche Pfeiffer che ai tempi non mi ha fatto nessun effetto, ma poi c'erano delle altre cose, e nei Linus c'era Vogue Baudet. Vogue Baudet è un grandissimo disegnatore americano morto, che nel 74 aveva vinto il premio come miglior autore a Lucca, aveva vinto uno Yellow Kid, Vogue Baudet, dopo te lo faccio vedere, se posso alzarmi te lo faccio vedere anche subito. Vogue Baudet. Ok. Ah, ma ho presente questo disegno. Allora, c'era Vogue Baudet e c'erano queste storie di rane che guardavano il mondo, che cercavano di capire il mondo, un autore underground, tu lo sai come è morto Vogue Baudet? No. Sente si masturbava in asfissia. Ah, ok, è una bella idea. E' morto così. Ah, ok. Morto così. Il racconto più preciso della morte di Vogue Baudet è quello fatto dal figlio Marc Baudet che racconta questa storia perché era fuori dalla stanza quando il padre è morto. Vogue Baudet era un santone nuovo bellissimo, boccoli biondi, lunghissimi, truccatissimi, meraviglioso. Era una sorta di cultore di una sessualità libera e aperta verso tutte le possibilità, sicuramente non binaria, che trovava un piacere fortissimo nel condividere la sua sensibilità con qualsiasi essere vivente volesse condividere, però poi amava molto anche la solitudine, il piacere solitario. E in questi casi il figlio Marc Baudet dice che gli ha detto ciao Marc, vado a fare la mia cosa mistica con il camicione da Santone, sembrava Mr. Natural, però biondo e truccato, e si è chiuso in una stanza e ne è venuto fuori, no, non è venuto fuori. E Baudet lì dentro era forza della natura, poi su quel numero di Linus c'era una storia che si chiamava Quando i sogni si incontrano, ed è il racconto di un prete di provincia di una hippie che prendono lo stesso tram che sembrava uno di questi tram che si vedono nei film che attraversano San Francisco o Tucson e tutti e due si addormentano e il prete sogna di essere Dio e la hippie e la ragazza hippie sogna di essere una una donna libera è assolutamente mi avvicino di più a questo è assolutamente è assolutamente viva e però Dio è un Dio che punisce un Dio che strappagliarti ai peccatori e quando quando arriva davanti alla ragazza che cammina con queste tette enormi che disegna Corven correndo noda nel vento si avvicina alla ragazza dicendo tu sei una peccadrice e la ragazza lo guarda e dice ma io ti conosco tu sei un prete ti ho visto sull'autobus che cosa stai dicendo e allora Dio si incazza vada alla ragazza si avvicina lì per farle del male e la ragazza gli tira una sberla per metterlo al suo posto e anche il prete si sveglia gridando degli insulti irripetibili alla ragazza e tutti quanti guardano il prete sull'autobus che scende all'autobus improvvisamente dicendo che Dio ti benedica però quella storia lì era una storia potentissima e Corban c'era anche su uno degli alter con una storia che si chiamava Rolf che era la storia di questo cane lupo che diventava un lupo vero tipo un lupo mannaro un licantropo e difendeva una donna una donna bellissima una di queste donne di Corban ma lì dentro c'era ancora Drouillet con una storia che si chiamava Arg che mi ha proprio divelto era la storia di una guerra in questo mondo con due lune contro un nemico invisibile perché c'erano degli attacchi dal cielo e questi attacchi erano quelli di questo bambino alieno che sgretolava la sabbia su queste formichine con questi occhioni che erano dei due lune oppure c'era la seconda parte di The Long Tomorrow di Mebius e Denoban la storia che poi ha influenzato più di tutte Blade Runner e c'erano tutte queste storie c'era Pichard c'era Pichard cioè uno poi come fa a crescere con un erotismo sano se ha visto Pichard a dieci anni cioè tutto l'erotismo che caratterizzano sono cresciuto in mezzo a una generazione di lettori di caballero di questi giornaletti io ce l'avevo Pichard dentro femmine odorose con le lentigini con i peli di cui sentivi l'odore già dalla pagina e allora il fumetto era tutto allora il fumetto era tutto il fumetto era l'avventura la libertà era il sesso era tutto quello che potevi aspettarti dal fumetto e dopo aver visto quei quattro numeri di Linus e Alper che ho sfogliato all'inverosimile per tutta l'estate non c'era più speranza per nient'altro cioè il cinema ma Guerre Stellari ma per favore Guerre Stellari no rimango seduto e leggo i fumetti sì sì cioè perché io c'ho metà l'urlante e beh imparagonabile proprio no no non c'era nessun altro modo per raccontare quel mondo ha una mente così aperta piana priva di preconcetti cioè a quel punto io ero diventato quell'universo e io volevo solo quell'universo e ti guardi ancora torno io voglio ancora solo quell'universo se penso se penso alle riviste l'ultima grande rivista che ho letto enorme l'ha fatta il compianto Luigi Bernardi era all'inizio degli anni 90 e si chiamava Nova Express ne ha fatte due ha fatto Nova Express e ha fatto Nero Nero l'ha fatta con Pepe Terrandino che è stato uno sceneggiatore grandioso forse il più grande sceneggiatore che questo paese abbia espresso in quel momento che poi è scomparso per ragioni che non possiamo indagare più di tanto perché è scomparso anche come scrittore ad un certo punto Nova Express ma tutta Granata Press negli anni 90 era era pazzesca era un modo per raccontare cioè per chi come me aveva seguito la crescita di Luigi Bernardi dopo Oriente Express che era stato un giornale bellissimo una rivista meravigliosa piena di errori piena di cose sbagliate ma bella da leggere dall'inizio alla fine e poi era atterrato su le le pulsioni narrative che venivano fuori da quell'idea di fumetto che c'era dentro Glenath Glenath e poi era arrivato finalmente a a Granata Press e a Nova Express quella grandissima rivista che si chiama Nova Express e l'idea di fumetto continuava a essere un unicum cioè io avevo letto nel credo fosse il 1986 o 87 non credo 86 perché ero ancora ero ancora al liceo avevo letto sulle pagine di Corto Maltese la rivista il quel fumetto estremamente dirontente che era il ritorno del cavaliero scuro di Frank Miller quella roba lì era pazzesca e quell'idea di fumetto che entrava nella realtà con una presenza fortissima della realtà sulla pagina le televisioni che scaldiscono il tempo la pubblicità e poi la vecchiaia di Bruce Wayne e Bruce Wayne che è un ricco un poco atto che ha le statue cafonissime in casa e si ritrova a camminare davanti a questa vetrata della Wayne Manor che è uno dei posti più cafoni e coatti che uno possa immaginare per la ricchezza cioè sei ricco ma sei cafonissimo questo Wayne distrutto che cammina davanti e che vede un pipistrello che rompe al contempo la vetrata e la pagina di fumetti è stato un punto di rottura fortissimo per i lettori di fumetti di quel momento e quella rottura è entrata diretta nelle vene di Luigi Bernardi che era il lettore più sensibile di fumetti che ci fosse e poi il mio amico Boris Battaglia direbbe no era invecchiato male non capisce un cazzo Boris quando dice queste cose Luigi era sensibilissimo e catturava tutte queste cose che mentre nascevano e Nova Express raccoglieva esattamente questa cosa il fumetto italiano degli autori amichetti di Luigi ma anche il fumetto americano che stava arrivando a quell'ondata che attraversava Frank Miller Alan Moore ma che arrivava sulle cose più difficili da capire Kevin O'Neill e Marshall Law era meraviglioso sulle pagine di Nova Express e poi il fumetto giapponese che per Bernardi era importantissimo e l'aveva intercettato cercando di catturare l'intelligenza più sensibile a quella cosa e portandola nella sua casa editrice ma poi li portava anche portava quelle cose anche sulla rivista che raccontava il manifesto della sua casa editrice Nova Express pubblicava Crime Freeman di Kazuo Koike non mi ricordo come si chiama l'altro poi mi verrà in mente mi sentirei poi lo mettiamo in sovraimpressione ok va bene le riviste in quel momento erano importantissime perché catturavano momenti interessantissimi del fumetto in quel periodo ma non perché fosse fumetto franco-belga o fumetto americano o fumetto giapponese o fumetto sudamericano non ne ho citato neanche uno ma ci sono fumetti sudamericani su Alcar sono Express no che avevano segnato molto noi lettori sei veramente innamorato io credo che ah pensavo fosse io credo io credo no no ma io sono devoto e fedele cioè pur professandomi ateo in realtà sono consapevole di credere in un dio che è la narrazione perché non c'è nulla come le storie che ti entri dentro ti trasformi e ti metta voglia di raccontare le altre storie no io credo sicuramente però io credo che quel modo del racconto che chiamiamo fumetto sia uno degli strumenti più potenti che il dispositivo narrativo più fico che il novecento ci abbia messo a disposizione poi superato sicuramente dal videogioco dall'idea di piattaforma convergente di tutto quello che ci possiamo fare con questo oggetto tutto quello che non è neanche mio lascialo lì quello che potevi fare che cazzo ne frega ma anche questo in realtà mi interessa un po' ma io credo che quell'oggetto sia un dispositivo narrativo potentissimo per un valore centrale quello cartografico cioè non esiste nessun altro dispositivo nessun altro media nessun altro medium scusami uso il singolare perché sono perché sono un po' un nazigramma come dicono da queste parti non esiste nessun altro medium che abbia una capacità così forte di cartografare mappare il racconto cioè la pagina è una mappa un dispositivo di navigazione della della vita dei personaggi ma anche dell'autore ma anche del lettore a me pare che quell'oggetto sia infinitamente capace questa cosa qua della mappa te l'ho già sentita dire e ti avevo già annoiato quella volta no 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 ed è anche una cosa che c'è in Xville di Dylan Horrocks c'è proprio un cartografo a un certo punto se ti ricordi di Horrocks e alla fine Horrocks è ossessionato dalla mappa e dalla cartografia e ha costruito anche una lettura della sua opera stessa attraverso la cartografia io dico di tutto il fumetto quella è la parte in cui erano ciò capito ma forse perché non c'è niente da capire quindi io questa storia della cartografia è estremamente affascinante mi riempie gli occhi e la mente di immagini meravigliose ma non è che ho mai capito che cosa volessi dire questa storia e la mappatura ma che cos'è una mappa per te? eh no infatti cioè quando tu hai acceso il navigatore google maps e sei lì che guardi questa roba e cerchi di capire dove andare cosa ti aspetti? vai a sinistra alla rotonda prendi la seconda uscita nella metafora di Tolomeo della costruzione dell'immagine cartografica lui dice l'immagine del mondo la rappresentazione del mondo deve partire da un punto che sta in alto a sinistra e poi progredire progressivamente verso l'estero e verso il basso ok e devi rappresentare in maniera uniforme il mondo ok e usa metafore omogenee coerenti consistenti per raccontare il mondo a me pare che sia una descrizione puntualissima di quello che vogliamo da qualsiasi racconto non dal fumetto non necessariamente dal fumetto il fumetto in più c'è il fatto che devi mettere su una pagina che è proprio così cioè se tu prendi non esiste nient'altro cioè il romanzo se sono in pagina tre righe per pagina non cambia niente la poesia se la impagina tre righe per pagina ti cambia però il fumetto è proprio come la poesia ha proprio questa coincidenza piena tra forma e contenuto non esiste un distacco cioè quando si racconta di ho una bella storia ma hai disegnato male a me viene tutta una roba dentro che dice adesso vengo lì ti spacco no è un bravo sceneggiatore ma ha dei cattivi disegnatori ma vengo lì e ti prendo a sberle ma cosa significa allora io questo è un punto fondamentale ti esorterei ad essere meno violento nelle tue metafore no scherzo però è una questione di cui abbiamo già parlato negli albi della nostra vita è appunto questo fatto che spesso molte recensioni sono così tre quarti di recensione è la trama e l'ultimo quarto è il disegno è fatto bene è fatto male e si va a perdere proprio il fatto che le due cose devono essere non so forse anche questo mio racconto delle memorie cioè quando io penso agli X-Men che mi hanno cambiato la vita non penso al tedesco al russo io penso a quella pagina di Dale Cockrum non mi ricordo il nome dell'inchiostratore in questo momento mi sembra che ci possiamo far bastare quindi penso a quella pagina con questo villaggio tedesco o austriaco non mi ricordo in questo momento buissimo con questi tetti da villaggi austriaci da operetta e con Nightcrawler Kurt Wagner che salta da una parte all'altra all'altra con una popolazione che lo insegue con i paletti e i forconi come nei film della Hammer quella cosa lì e ricordo perfettamente quella pagina cioè quando il racconto del fumetto non è mai cioè se tu pensi a New Romance a New Romance di William Gibson sei lì e ti lasci affascinare dalle parole chiudi gli occhi e dici il cielo sopra il porto era dello stesso colore di un televisore sintonizzato su un canale morto bam occhi chiusi no se io penso agli X-Men io penso alla pagina penso a Prudstar che prende il bisonte lo butta per terra e ce l'ho chiaramente quella pagina cioè quando se tu mi chiedi di pensare quali sono le storie che mi hanno cambiato la vita io vedo le pagine vedo l'immagine vedo particolari penso all'erezione dell'investigatore di The Long Tomorrow mentre l'aliena mutaforme si trasforma in un mostro tentacolare e gli si avvinghia addosso cioè ma ed è difficile raccontare quel momento a parole cioè narrativamente è una cosa c'è pochissimo nella narrativa no è tutto è tutto quell'attrazione tutto quello schizzo di sperma avvinghiato intorno a un tentacolo che strizza un pene è quella cosa sì sì e io credo che quel pene turgido sia il senso del fumetto adesso raccontata così sembra un po' cioè alla fine come come sembra un po' l'idea della alla fine chi legge fumetti ha un vissuto onanistico estremamente pesante sì sicuramente è vero lascia stare Minnie quando parliamo di queste cose però è anche vero che dannazione quella pagina è la pagina sì sì e il racconto fatto a parole non racconta quella pagina no no è la forza dell'immagine che è che è racconto contemporaneamente cioè io sono d'accordo con Art Spiegelman quando dice che il fumetto deve essere fatto da un solo individuo e gli sceneggiatori sono normalmente delle figure completamente immagini sono d'accordo con lui poi ad Art Spiegelman quando dici sì ma ci sono Mugno e San Paio lui ti risponde sì è vero ma quello che cazzo c'entra quelli sono un individuo con due teste quattro braccia no poi è chiaro ci sono pochissime altre eccezioni forse Goscinni Goscinni sicuramente Alan Moore in alcuni casi è un gigante lo stesso Miller quando non disegna però è un disegnatore ha un'idea ha un'idea visuale del suo Oster Helbe Oster Helbe è un sceneggiatore gigantesco ma ce ne sono sicuramente tantissimi altri Kurtzman quando non disegna che comunque disegna lo stesso cioè alla fine però è importante che il rapporto tra sceneggiatore e disegnatore non sia casuale il rapporto tra disegnatore e sceneggiatore è un rapporto non casuale mai lo sceneggiatore non può permettersi di fare il mestiere di Moore Alan Moore costruisce queste sceneggiatore lunghissime con un sacco di citazioni la bibliografia eccetera sono noiose chi cazzo l'ha letta la bibliografia la sceneggiatura di Moore di From Hell pubblicata dietro i volumi le note le note sì sono noiose bellissime a parte che mi è piaciuta di più no va bene no Moore no va bene con Moore è da pazzi e secondo me l'unico libro veramente riuscito di Moore a quello come perché lì il disegno ha veramente una potenza fortissima con un disegnatore visibile attenzione però sì però pensaci Moore dà il suo meglio con meno capacità ma Dave Gibbons Dave Gibbons è una patata infatti secondo me no Watchmen è gigantesco Watchmen è gigantesco se poi guardi Martha Washington e Give Me Liberty Dave Gibbons al servizio di Frank Miller dici Dave Gibbons è una patata eh no certo cioè perché perché è un disegnatore tecnicamente ineccepibile era Give Me Liberty appunto uscito su Novae Express e Luigi Bernardi raccontava che l'unica una delle volte non l'unica volta perché Magnus era uno che si incazzava spesso Magnus che la volta in cui Magnus gli è arrivato in ufficio gli è piombato in ufficio incazzatissimo gli brandiva davanti agli occhi la pagina in cui c'erano la pantera e l'aquila che si fronteggiavano sulle pagine di Give Me Liberty diceva guarda questa roba tu hai pubblicato questa merda hai pubblicato questa merda e gli diceva secondo te Galeppini Galeppini avrebbe disegnato una merda così e aveva ragione Magnus quella roba lì era brutta era brutta poi scusami lo leggi e ci sono delle altre cose che ti entrano dentro le altre cose che ti toccano però io credo veramente che Alan Moore sia uno sceneggiatore così potente con un'idea così visuale del suo racconto e fa anche delle sceneggiatore estremamente dettagliate quindi non lascia poi spazio meno spazio lascia meno spazio leva spazio sicuramente sia uno sceneggiatore così potente che alla fine meno roba c'ha il disegnatore dentro di sé più è facile David Lloyd stiamo parlando tutti stiamo parlando solo di disegnatori estremamente corretti sì 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 ecco invece secondo me non mi ricordo come si chiama quello di Frommel l'abbiamo detto in un secondo è di Campbell grazie Campbell è meno corretto per quello è più interessante Frommel secondo te è corretto Campbell? no Eddie Campbell non è corretto tra tutti questi Eddie Campbell è uno che se ne è fatta abbastanza capito? sì poteva fare anche un altro mestiere però secondo me quello è interessante quella romagna c'è interessante secondo me c'è tanto anche nelle vignette brutte sono belle non so come dire cioè mi danno mi danno però ma che i boss non mi dà capito? questo intendo scusami ma Swamp Thing a te piace un tono? ma sì non so quello che ho letto sì era carino avevo iniziato a comprare fumetti americani e ho comprato The Killing Joke quando è uscito e prima avevo letto Before Vendetta quando è uscito più o meno lì Al Amour era un nome che girava tanto e di cui parlava la stampa specialistica ai tempi i lettori di fumetti leggevano Fumo di China e cavolo quando finalmente ho trovato il paperback di di Swamp Thing la lezione di anatomia quel primo quella prima storia mi ha lasciato veramente col fiato mozzato cioè è stata proprio una cosa da cioè c'è il muro una tenuta lì quando in Before Vendetta arriva V e dice che entra con la quinta di Beethoven e dice occhio che il codice Morse della quinta di Beethoven è la V io mi sono è una roba che non ho mai più riletto ma che ce l'ho ancora qui che mi schiaccia dentro cioè è un ossessivo compulsivo è uno che ha una pigna di nevrosi più grande di quell'albero di Natale cioè è una è una roba che voglio dire l'analista di Moore è ricca cioè c'è una villa a Malibu no? è proprio stiamo parlando di quel genere di ricchezza e quando arriva alla lezione d'anatomia e racconta la trasformazione della carne che diventa palude che diventa natura che diventa ambiente che diventa anima che diventa intelletto io sì in effetti quel passaggio lì me lo ricordo anch'io le planarie le planarie che mangiano le altre planarie imparano a percorrere l'ambito ma che bellezza ma che bellezza io credo che oltre la cartografia del racconto ci sia anche il mondo della follia degli autori cioè non esistono umani savi l'abbiamo capito cioè siamo tutti folli siamo tutti nevrotici siamo tutti l'unica alternativa a essere nevrotico è peggio si chiama psicosi that's it è facile siamo tutti nevrotici ci sono varie forme di ossessioni compulsioni nevrosi depressioni maniacalità varie forme ecco gli autori che amo non hanno paura di essere o quantomeno non sono così tanto consapevoli di esserlo da nasconderlo ok l'abbracciano comunque abbracciano la si 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 o non riescono a nasconderla o non riescono a nasconderla e quindi quella follia quell'essere quella nevrosi follia è sbagliato quella nevrosi è la cosa che io cerco nel fumetto che il romanzo mi da meno i saggi non mi danno io sono un grande lettore di saggi il racconto mi da più del romanzo ma con efficacia minore il fumetto mi racconta le nevrosi il fumetto ha il fatto che tu vedi il passaggio della mano sulla carta se tu hai un contratto hai un contratto fisico con l'autore quando la gente ti metta l'apsus era perfetto hai un contratto con l'autore hai un contratto con l'autore cioè sai che c'è io non posso mai dimenticare che ci sei cioè lo stile lo stile lo stile lo stile ma anche lo stile lo stile non vorrei diventare lacaniano in questo momento lo stile è una dichiarazione di presenza così forte che la scrittura corretta dei romanzieri ha perso cioè romanzieri con uno stile sono rarissimi nel fumetto lo stile è innegabile cioè cattivi scrittori che fanno fumetto e ce ne sono nella peggiore delle ipotesi fanno parlare i personaggi tutti uguali quindi non senti le voci non senti non senti le differenze di provenienza di umore di parlano tutti uguali un italiano corretto la traduzione la traduzione spesso appiattisce tutto però nel fumetto la traduzione non riesce a fare danni riesce a farne meno perché il balloon è il balloon e ti costringe a stare lì dentro e ti costringe e se sei stato sintetico devi essere sintetico e se hai detto cazzo dici cazzo e e le facce sono le facce cioè lì davanti a me c'è un episodio di criminals la serie che stanno facendo Phillips e Brubaker no? che si chiama tutti i miei eroi sono sono tossici ah sì i miei eroi sono tutti tossici e lì dentro al di là della della storia che è potentissima scusate lo dico solo perché la vedo perché lì appoggiato di faccia no lì dentro c'è il volto di questa ragazza che racconta la personalità di questa ragazza e l'amicizia profonda che lega Sean Phillips e Ed Brubaker è percepibile nel segno cioè è chiaro che questi due lavorano insieme da così tanto tempo che le parole dell'uno trastudano nel segno dell'altro che è quello che si sente con Munoz e Sampaio è quello che si sente con Munoz Sampaio Sampaio scusami Sampaio credo se lo dice Munoz dice Munoz dice Sampaio però credo che gli spagnoli dicano Sampaio ok vabbè e mi sembra che quella roba lì sia sia la cosa che che ricerchi in un fumetto in cui collaborano degli autori diversi cioè al di là dello stile anche se tu non hai tanto stile quando tu vai a vedere una tavola di un fumetto che è stampata da bene ma tu hai proprio se tu puoi vedere il movimento che ha fatto la mano con la tavola la mappa è proprio è un contatto molto forte rispetto a qualsiasi altra qualsiasi altra opera ma non stiamo dimenticandoci il fatto che il metodo potrebbe esserci una post lavorazione fatta di taglia in colla photoshop infatti non si è passati al digitale per i fumetti fino a che il digitale non ha permesso che si vedesse una differenza vera del segno ti ascolto con interesse secondo me secondo me sì veramente se pensi da quanto tempo già è stato adottato l'uso dei mezzi digitali nel fumetto e quanto ancora si usa il pennello si usa ancora cioè è assurdo che ancora qualcuno si ed è ancora uno dei mezzi più efficaci comunque poi vabbè secondo me la forza del fumetto forse c'è detto anche quello forse c'è dietro il fatto che se tu hai se tu sei mebius arrivi e e puoi usare qualsiasi strumento e costruisce un immaginario devastante poi va bene ho citato mebius stiamo parlando di uno dei dieci inventori di immaginario del novecento cioè insomma è giocato facile ha giocato facile no però penso anche cerco un nome più semplice lo devo trovare no però non so se Emanuele è Fior che è molto vicino a mebius sì però fortunatamente per lui non è mebius no no è vicino nel metodo nel metodo nella costruzione della pagina in tutto però voglio dire ancora Emanuele non è considerato un monumento intoccabile come un monumento non è morto penso tu sei Emanuele Fior arrivi lì costruisci la pagina e le pagine di Celestia sono le pagine di Celestia non cioè sei nell'immaginario nell'immaginario di Emanuele che ha studiato l'architettura il racconto la narrazione Venezia Venezia ha studiato Venezia assolutamente ha studiato ha studiato Nausicaa come dice un mio amico e ti ritrovi lì e quell'uomo da solo in una stanza e guardando riferimenti che ormai gli arrivano con una facilità incredibile perché ci avrà Google anche lui costruisce un universo un universo vero o verosimile si si coerente coerente si e forse è quella roba lì perché costruire quella cosa con un sacco di post produzione con un qualsiasi altro mezzo del racconto o costruendolo con un sacco di preproduzione su in un mondo virtuale in cui puoi ambientare un videogioco forse sarebbe stato meno direttamente connesso alla mano meno direttamente connesso cioè è proprio la linea credo che tu stia parlando e sono d'accordissimo della linea che unisce l'io quell'agglomerato di paure e nevrose che chiamiamo io con la mano il pennello il foglio e alla fine il racconto cioè io che tracimo nella narrazione ecco la cosa lì che secondo me diventa poi molto difficile anche col cinema appunto con mezzi che hanno bisogno di molta più produzione di molte più persone coinvolte quindi di molti più investimenti e quindi di molta più mediazione di altre persone che possono portare ad avere dei risultati magari che hanno un impatto molto più spettacolare perché un bel film comunque anche con una messa in scena micidiale è bellissimo ti dà un impatto incredibile c'è la musica c'è i suoni c'è tutto però quel tipo di rapporto con il regista tu non c'è anche se c'è il film è di quel regista ci si è di quel regista ma cavoli ci hanno lavorato anche altre cento persone e hanno dato tutto un contributo importante di solito quindi assolutamente poi alla fine quando parliamo di quel regista parliamo di dieci registi che riescono in qualche modo a gestire tutta questa gente qua che hanno una riconoscibilità forte però se poi penso a uno di quei dieci registi a uno di quelli che amo di più a Scorsese e penso al lavoro che ha fatto su un libro che non è propriamente fumetto ma che al fumetto si avvicina tantissimo come La straordinaria invenzione di Hugo Cabret e dico cazzo centomila volte più bello il libro del film anche se il film è spettacolare bellissimo 3D scusa se non c'è colonna quindi 3D per me significa veramente poco è meraviglioso ha la costruzione ritmica la musica Meliè che arriva che è veramente Meliè poi in realtà sappiamo che non è Meliè perché Selznick aveva un amore per un altro esempio cioè tutte queste cose qui porca miseria io credo di non essermi mai emozionato così tanto al cinema come leggendo le straordinarie emozioni di Hugo Cabret cioè far saltare per aria uno spettatore facendo il bu è una cazzata fallo saltare per aria cambiando la pagina cioè cambi la pagina e subbalzi tutte le volte che ti succede leggendo i fumetti ti succede è magia è una cosa che che dici ma come cazzo ci sei riuscito figlio di puttana perché sto piangendo perché sto piangendo perché ho paura no e quando quando si spezza la gamba della sedia nella straordinaria invenzione di Hugo Cabret io ho fatto un salto così ero sul treno la gente attorno a me credo sia ed erano pagine di sole figure non so se ve lo ricordate tu te lo ricordi io ho letto non lascio questa parte in particolare no è un libro in cui le parole e le immagini si alternano e non si sovrappongono mai cioè ti racconto le cose a parole poi a un certo punto mi fermo e ti racconto le cose a immagini e poi vai avanti e ti racconto le cose a parole e a un certo punto ci sono anche pochissime vignette per pagina no c'è un solo disegno c'è un unico disegno per doppia pagina addirittura per cui tu sei lì apri non ce ne neanche mai due no non me lo ricordo lo guardiamo subito lo prendo lì no prendilo tu tu lo guardi questa è una doppia sono tutte doppie sono tutte doppie quindi c'è una sola immagine per doppia pagina di questo disegnatore folle che costruisce questa costruzione narrativa di quanto sono? 600 pagine? 400? 600? sì 600 costruisce una narrazione di 600 pagine poi ne farà degli altri di 600 pagine fino a quel momento non ha mai fatto niente così e a un certo punto tu ti ritrovi chiuso in una casa a cercare i segreti della famiglia nascosti sopra un armadio in una valigia e si spezza la segna della segna e si spezza la gamba della segna e tu stai sfogliando e stai guardando solo le figure e fai un salto per aria e lì fai la signora con il sacchetto LS lunga tra le zampe chiusa lì davanti che ti guarda a un certo punto si preoccupa si preoccupa perché vedere uno che sta guardando un libro sfoglia una pagina di sola immagine e salta per aria e spaventò eccola lì porca miseria non la posso guardare cioè non la posso guardare è una roba che ti fa che ti fa male e quella roba lì non la puoi fare se non stai cartografando lo spazio geografico del racconto sulla pagina se non hai un'idea narrativa che ha un'intensità ritmica che è esattamente commisurata alla dimensione spaziale della pagina cioè il quantitativo di racconto è esattamente il motivo per cui amo Kurtzman Kurtzman è quella cosa lì un centimetro quadro di fumetto è un centimetro quadro di racconto certo quando Paul Karasik racconta il suo adattamento di città di vetro racconta una cifra matematica arrivai e ti dice io ho preso il libro il romanzo di Paul Oster l'ho diviso in sezioni e ho scritto per ognuna delle sezioni che volevo raccontare il numero di parole il numero di pagine un'analisi quantitativa degli elementi poi ho preso tutta questa roba e bam l'ho trasformata in fumetto con un'analisi quantitativa poi dietro hai avuto Mazzucchelli va bene però già il suo storyboard era Mazzucchelli un po' messo in bella ma non ha aggiunto tantissimo dal punto di vista della regia perché Paul Karasik ha avuto quell'idea lì ha avuto l'idea di tradurre un racconto facendo la mappa mantenendo la scala cioè lì dietro c'è proprio un'idea di scala di proporzionalità del racconto che che trasforma quella roba sì sì anche mi ricordo questa cosa qua diceva quante pagine deve essere quante informazioni ci devono essere per ogni tavola rispetto a quante ce n'è in ogni in ogni pagina in ogni scrittura sì sì dobbiamo finire l'intervista che ho finito il vino vuoi sapere un'altra bottiglia quindi a te ti ha fatto questa botta qua l'invenzione di la straordinaria l'invenzione di perché io ricordo di averlo preso l'ho letto non mi ha dato questa questa botta vabbè io non si piglia le sue botte dalle sue cose io credo non lo so poi sono un lettore veramente ingenuo la cosa che ho trovato incredibile è che tu prendi in mano adesso quella è l'edizione paperback ma c'è l'edizione cartonata che è stata quella che ho preso io ho preso in mano questa edizione cartonata appena uscita ero arrivato in una libreria era uscito quel giorno lì sono trovato in mano questo oggetto inatteso perché non sapevo neanche che dovesse uscire e non sapevo niente di Brian Selznick prima sono così stupido che non avevo letto le cose di Selznick prima di questo perché sono bellissime cioè ci sono dei libri bellissimi di Selznick prima di questo non tutti usciti in italiano e ho preso in mano questo oggetto ed era un oggetto massiccio pesante l'ho preso in mano pensando a un altro di quei romanzi lunghissimi che non leggerò mai sì certo perché poi c'è questa cosa assurda del nostro rapporto con le narrazioni tu ti ritrovi a pensare questo libro Proust lo leggerò quando finalmente avrò del tempo non lo so qualsiasi che poi Moby Dick ah sì Moby Dick chiamatemi Ismaele sono già questa va bene mi basta per tutta la vita no e e poi prendi e e invecchi e non le leggi ste robe qui e invece da ragazzino ti sparavi hit sì sì boom no che era grande anche quella volta quando ancora non c'erano fatto due film era già grosso e quindi prendi in mano sto libro lo prendi in mano lo sollevi lo apri e dici ma che cos'è apri e tum 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 e ti ritrovi immediatamente ad aver letto 30 pagine in meno di un minuto sì e sei già dentro la storia e non riesci più a posarlo e io credo che un libro capace di costringerti a essere dentro la storia prima di averlo pagato è un libro che ha vinto tutta la vita lo metti in mano a un bambino e questo dice che cos'è questa roba enorme punto 30 pagine subito dici adesso continuo poi cosa sarà un romanzetto di 200 pagine sempre forse sì sarà un romanzetto di 200 180 panie una cosa così però cavolo con una densità narrativa allucinante perché raccontiamocelo i fumetti sono veloci da legge sì sì cioè è vero l'immagine va guardata ma sapete quanto è più facile guardare la stanza in cui vive Wolverine che sventrerà con i suoi artigli da Damantio disegnata da John Byrne o da chiunque da da Care Andrews che è uno molto figo che mi piace in questo momento no piuttosto che leggersi una descrizione di 20 pagine di Alan Dean Foster di quella pagina di quella stanza eh ho scelto uno scrittore particolarmente poco dotato quello che scrive romanzi di Alio noi che leggiamo fumetti abbiamo anche per scontato che l'immagine non debba essere letta ma in realtà è perché siamo più abituati che la percepiamo ma in realtà in qualche modo c'è sempre una lettura anche dell'immagine non si spiegherebbe altrimenti il fatto che quando ci raccontiamo una storia poi non abbiamo chiaramente la pagina cioè quando ci raccontiamo una storia a fumetti chi sa leggere i fumetti non quelli che ti dicono la storia è fica il disegno così una storia così ma con i disegni no cioè quelli che che mettono i voti separati alla scena sembra che che siano andati a fare storia teoria della lettura nelle scuole del fumetto in cui gli insegnano soggetto sceneggiatura matite inchiostri lettering colore e poi c'è l'editing anch'io insegno così perché per farli poi li devi fare così tu hai quest'idea che a un certo punto quella cosa lì da lì ci devi passare sì però c'è un livello di artigianalità che a te piace che le pagine nascano no così dalla mente degli autori si si manifestino sì però i disegnatori che hai visto disegnare quando guardi un disegnatore che disegna una pagina come disegna? disegna pensando al soggetto la sceneggiatura cioè no certo certo guardi cavazzano che prepara una pagina del topo e lo vedi fermo per minuti infiniti poi fa un cerchio e poi fa un cerchio qui un cerchio qui e un cerchio qui ed è lì che li guarda cancella questo cerchio e lo sposta un po' più in alto e lo guarda e poi cazzo prende e disegna una pagina sì e quella roba lì è l'idea di racconto sul fumetto cioè pensare a uno che squadra il foglio e disegna come se fosse se stesse battendo a macchina un racconto la prima pagina sinistra tun 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 e poi a capo tun 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 e che palle cioè io sono cieco da un occhio non sono veramente cieco da un occhio ho un bollone in mezzo ho tutta la vista periferica cioè la vista periferica è tutto è Alice che ci spiega Alice di Lewis Carroll che ci spiega come funziona il fumetto cioè quando ci dice che nel negozio della pecora lei arriva lì e si trova in questo negozio con scaffali pieni di cose ma ogni volta che guarda uno scaffale è vuoto ma tutto intorno sono pieni e allora lei li insegue e quasi casca lì indietro no? il fumetto è quella cosa lì certo ogni singolo elemento che guardo è vuoto e non significa niente però tutto intorno è pieno e forse disegnare quel vuoto e quella pienezza narrativa intorno è la cosa che vogliamo dei fumettisti io sono solo un lettore io voglio essere stupito io voglio io voglio saltare quando guardo la pagina quando quando arrivo in un punto che mi fa venire da piangere e piango spessissimo leggendo fumetti perché sono una mammoletta perché stai vecchiando ma ho sempre pianto forse sono nato vecchio è tutto molto bello però è veramente difficile fare i fumetti questa cosa qua come dici tu avendo un'idea della pagina complessiva cioè poi le pagine sono tante un certo grado di artigianalità di mestiere sicuramente ci va ci va però è molto bella la cosa che dici che guardi attorno ogni volta che ti sposti e lo vedi attorno al contrario che quando tu apri una pagina tu vedi anche già la fine se tu guardi una storia di due tavole o di una tavola tu come la prendi sei già tutto sei già tutto eppure c'è Gottlieb eppure c'è un autore come Gottlieb tu lo apri c'è tutto c'è il crescendo di comicità di movimento tutta questa cosa perché vedi tutto il movimento all'interno alla fine eppure mentre leggi godi perché? cioè perché Gottlieb prende quattro disegni di Frank Kemp allora Gottlieb è il più grande versore uno dei più grandi versori che il francese abbia avuto uno di quelli che sono andati via da Pilot che era il giornale diretto da Gossini quindi autore di Asterix e di Lucky Luke lo sceneggiatore di Asterix e di Lucky Luke uno che però sapeva la pagina e la sapeva benissimo porca miseria porca miseria se sapeva la pagina di Gossini e Gottlieb a un certo punto fonda prima le code e savane poi fluidità Gottlieb fa anche un fumetto con Gossini che si chiama Rubrica Braque e il suo costrutto narrativo è un costrutto narrativo di crescendo di comicità sono dei personaggi che si muovono sempre più convulsamente facendo delle cose che sono ricorsive e raggiungono un orgasmo un'apoteosi di movimento che racconta tutto e a un certo punto su credo fluido glaciale Gossini intercetta Francken Francken è il grande fumetto belga la scuola di Marcinelle contro la scuola di Bruxelles cioè da una parte c'era la scuola della linea chiara di Hergè dall'altra parte c'era la scuola della comicità avventurosa di Francken quindi Tenten Tantan contro Spirou Francken è Spirou Francken a un certo punto ha dei problemi all'interno di Spirou cerca dei contratti differenti entra in pilota facendo una cosa brutta e a un certo punto viene intercettato da Gottlieb che dice fai delle cose anche con noi con Gottlieb fa le idee nere che è un fumetto bellissimo e a un certo punto insieme dicevano di fare dei fumetti e Francken dà due pagine di disegni due gatti che copulano a Gottlieb Gottlieb prende quelle due pagine forse sono solo quattro o sei disegni e li trasforma in una storia bellissima meravigliosa con due gatti che copulano e quella roba funziona solo perché tutti gli attori che ci lavorano hanno idea di narrazione fumetto pagina racconto sviluppo fatto che quella roba lì debba trascinare odore debba essere essere una cosa che ti investe sensorialmente e che ti trasforma perché perché il racconto ti deve trasformare ho detto una cosa noiosissima ti sei annoiato anche tu mentre la dicevo lo vuoi vedere? forse sì è quello il discorso che senza vederlo secondo me questa roba qua è illegibile con il testo c'è questa roba qua è illegibile Gottlieb è illegibile ma per che cazzo stiamo parlando ancora no questo mi piace rubrica brach era una rubrica era due pagine sul piloto due pagine su piloto arrivavano lì e c'erano due pagine in un numero a vederle tutte assieme così fa paura eh sì ma chiaro però stiamo parlando di piloto era un settimane tipo il corriere della gara sì 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 slow burn è bellissimo la roba dei due gatti disegnati a prank game sono un attimo frastornato dalla quantità di emozioni che mi hai riversato addosso te ne ringrazio c'era veramente un grande lettore un lettore sì un lettore che chiede molto ai fumetti giustamente sono un lettore stufo di abbassare la guardia sono un lettore stufo di non di non avere aspettative sono un lettore io voglio essere stupito e non è importante il fatto che tu lo stia facendo tutti i mesi tutte le settimane tutti i giorni quel mestiere cioè non è che perché stai facendo una serie puoi permetterti di trattarmi peggio io sono il lettore ho delle aspettative e cazzo voglio essere soddisfatto per cui sai che c'è anche se esci tutti i mesi con la storia che racconta sempre la stessa cosa tutti i mesi è necessario che tu tutti i mesi mi faccia così se è quasi impossibile però è assolutamente impossibile però se mi fai godere una volta l'anno è bello lo stesso ti guardo con passione e interesse lo stesso mi sa di sotto una volta l'anno se non mi fai godere mai no guarda anche se mi fai godere anche una volta ogni tre anni ma anche meno cioè però fammi godere cioè era il discorso che facevamo con Boille quando si è incazzato con Altan cioè Altan mi ha fatto godere così tanto per così tanto tempo nella sua vita che se anche adesso sei un po' normalizzato sì poi tutto va a vedere poi tutto va a vedere perché comunque Altan potrebbe essere una bomba spessissimo sì chi se ne frega cioè ti posso ti posso perdonare però se nella tua vita mi hai fatto godere una volta sola oppure mi hai fatto vedere che avevi una potenzialità una volta sola mi te lo perdono mi te lo perdono soprattutto perché quella volta mi hai fatto vedere che c'è una potenzialità cioè vabbè lo dico ecco cioè se tu sei Roberto Ricchiuno e nella tua vita hai fatto quel numero di John Do disegnato da Rosenzweig e quel numero di Dylan Dog disegnato credo a Carnevale e poi basta per tutto il resto della tua vita ti sei guardato un bellico hai tirato fuori la danugine l'hai arrotolata bene l'hai stesa hai iniziato a dirmi il mio nome è Cobretti Mario Cobretti e mi hai raccontato gli anni Ottanta e guardo e ti dico no io sono il lettore cazzo lo so che tu hai una storia da raccontare cazzo a scarpate nel culo la devi tirar fuori però la devi tirar fuori perché se il meglio che puoi fare è tirarla lunga per tre anni e poi arrivare al numero 399 e 400 di Dylan Dog e fare il fumetto più brutto che sia mai stato pubblicato in questo paese per un editore che è stato il più grande editore di questo di questo continente cazzo cioè Bonelli è stato il più grande editore di fumetti in Europa per volume e per fatturato allora ti guardo e dico no è imperdonabile no è imperdonabile quella cosa lì non va fatta perché perché se Bonelli fosse stato vivo ti avrebbe preso scarpate nel culo vabbè ma cosa ne sai tanta roba è uscita che non è che tu sai no la levi questa questa va levata mi metto anche un dito nel naso così la levi però è quella roba lì è quella roba lì cioè Pratt quanta merda ha fatto nella sua vita un po' una cosina un po' però manco troppa manco troppa Pratt aveva un senso del racconto a me viene continuamente in mente una storia bellissima che non si può raccontare perché non è documentata la raccontano un po' sbronzi gli assistenti di Pratt in alcuni momenti ma vai nessuno con la confermere c'è una storia bellissima di Pratt che si chiama Kato Zulu questo personaggio con il becco Pratt ha questo contratto deve fare questa storia però ha un viaggio in programma parte molla lì i due assistenti sempre loro due e i due assistenti si ritrovano da soli con una storia da fare Pratt li guarda e gli dice beh sti abbiamo fatto sei pagine adesso fate salire Kato su un cavallo insieme a Stavola ma qua fatevi cavalcare per sei pagine poi io torno scompare per un po' dopo un po' questi sono finito le sei pagine non sanno più che cosa fare sono disperati si avvicinano la data di scadenza li chiama e dice allora come sta andando eh no di qua fateli entrare in casa e fate altre sei pagine di cavalcata questi disegnano 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 e va avanti così per un po' fino a quando a un certo punto quando ormai la data di sconsegna è stata bucata largamente Pratt arriva ritorna in studio poi la sta roba qui dice cos'è sta cagata ma che cosa avete fatto ma che cos'è ma prende le forbici la penna la colla prende dei fogli bianchi e inizia a ritagliare queste pagine e le rimonta e scrive balloon e in un pomeriggio prepara il libro che deve consegnare e ci sono pagine e pagine in cui a un certo punto c'è lei che chiede non so se se l'avete mai riletto se tu l'hai mai riletto io non l'ho mai letto no a un certo punto c'è lei di dietro a cavallo e dice ma perché siamo sempre a cavallo e lui le risponde perché mi piace sentire le tue tette sulla schiena e è questa cosa di Pratt che costruisce due vignette di raccordo aggiunge balloon e racconta una storia partendo da queste narrazioni al di là del fatto che assomiglia molto alla cosa di Frank Henne e Gottlieb di prima è è proprio un'idea di amore del racconto che non ha non ha nessun paragone bisogna chiudere cosa si fa per chiudere ciao vabbè finisce così sì No, no, no.